Sembra che il fumo funzioni, il cannone automatico spara alla cieca. La caduta del Campidoglio sarebbe un colpo gravissimo per i True Sons, ma la priorità è la balicetta che il presidente Ellis aveva sull'Air Force One. Kelso aspetta a bordo di un elicottero per recuperarla appena la trovi. Se Ellis ha detto il vero, fargliela riavere è fondamentale. I civili ti aiuteranno a entrare nel perimetro, ma una volta dentro dovrai sanartela da te. Rinfanzi nel perimetro, arrivo sulla tua posizione. Nave trauma rilevato. Agente a terra. A un agente serve aiuto. A un agente serve aiuto. A un agente serve aiuti. richiesta assistenza medica immediata a un agente serve aiuto agente a terra altri ostili verso di te segni e d'arri rettici passiamo alla schiuma la paghera in gara la paghera era l'ultimo dovresti avere via libera fino all'ingresso è arrivato il momento di entrare e finirla qui la paghera Radio nemica intercettata. Signore, delle cariche di prossimità sono esplose alla rotonda. Sono delitto. Intercettateli. Malfunzio. Firma elettronica rilevata. È il codice RFID che cercavamo. La valigetta è vicina. Mi ricevi, Kelso? Porto è chiaro. Resto in attesa. Sistema riattivato. Arresto del sistema. Sistema attivato. Malfunzionamento del sistema. Siamo. Grave trauma rilevato. La corazza tattica. Recuperata la valigetta, raggiungi il tutto della rotonda e attendi l'elicottero. La batteria di mortai è ancora lì. Ricevuto. Perché l'elicottero si avvicini, bisogna eliminarli. Ci siamo! Vuoi vedere? Non so! Preparati a morire! Ok, va bene. un'altra scuola! non ti fuori da qui! allunga torrenta! quello ti servirà! non ti fuori! fuori! non ti 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 fuori! si signore! procediamo! siamo al sicuro dal tiro delle armi leggere! buona visuale sul Campidoglio! non ti fuori! 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 poi non ti fuori! ma non ti fuori! aiuto. Grave trauma rilevato. Agente fuori combattimento. Agente a terra. Chiesta assistenza medica immediata. Agente deceduto. Ci sono dei mortai sul tetto e un bel po' di nemici davanti a te. Sembra che il fumo funzioni. Il cannone automatico spara alla cieca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Agente a terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Agente a terra. Grazie a tutti. Agente a terra. 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 Grazie a tutti. A un agente serve aiuto. Senti ai critici. Agente deceduto. 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 Agente fuori combattimento. 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 E' il cazzo di errore! Come ci si sente? No, la visuale è libera! Bravo lì! La giramento! Preso! A un agente serve aiuto! E' pronto alla... Posizione di aggiramento! ... ... I bianchi! Non esiste male. I droni mi affrevo di vincere! I movimenti! 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 Generale, è probabile che la divisione abbia la valigetta! Proveranno a portarla via! Fate di tutto per rallentarli! Signor sì, signore! Procediamo! Siamo al sicuro dal tiro delle armi leggere! Buona visuale sul Campidoglio. Buona visuale. 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 Servi aiuto. Segni vitali critici. Sto ricaricando! Vi aspetta il trapato! Sto blocchiato! Sto blocchiato! Sto blocchiato! Sì! Sì! Agente traditore rilevato. Quando il sito è libero, spara un razzo segnaletico. Sì! 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 Alveare resta un attore traditori rilevato. Drone bombardiere traditori rilevato. Drone bombardiere traditori rilevato. Drone bombardiere nemico rilevato. Drone bombardiere nemico rilevato. Drone difensore traditori rilevato. Drone difensore nemico rilevato. Agente a terra. Torretta incineritrice traditori rilevata. Torretta incineritrice traditori rilevata. Tornetta inceneritrice nemica rilevata. Grave trauma rilevato. Tornetta artiglierie traditori rilevata. Tornetta artiglieria nemica rilevata. Agente fuori combattimento. Lucciola cecante traditori rilevata. Lucciola cecante nemica rilevata. Alvearini di vespe traditori rilevato. Tornetta artiglieria nemica rilevata. Cos catholiclieria nemica rilevata. Tornetta artiglieria nemica rilevata. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Agente a tutti. Agente fuori combattimento. Grazie a tutti. 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 A un agente serve aiuto. Grazie a tutti. Agente a terra Nessun altro contatto Via libera Ricevuto Veniamo da te Tagliamo il gancio baricentrico Quando arriva aggancia la valigetta Abbiamo la valigetta Mi sparano Andiamocene Ci sono parecchi nemici che vengono verso di te Immobilizzo il pensato I nemici si attirano Andiamocene 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 Ah vado al tiraggio Sì richiesta assistenza medica immediata la valigetta è nostra i trussons hanno perso la loro roccaforte e ridgeway è stato neutralizzato nella mia lista di fantocci da eliminare quel pezzo di merda era il primo tanti della mia vecchia unità sono morti a causa sua alcuni si sono addirittura uniti a lui lancia un razzo dalla scalinata centrale per dare il via libera e poi torna a casa festeggiamo la 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.